Ti sei mai chiesto cosa succede quando due personaggi potenti si scontrano in diretta tv? Immaginati la tensione, le parole che volano e il silenzio che segue un colpo di grazia. Questa è la storia di un confronto epico tra Giorgia Meloni e Alessandro Parenzo, un botta e risposta che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Giorgia Meloni, con la sua determinazione e la sua intelligenza, ha annientato Parenzo in un dibattito televisivo. Non perderti questo video che ti mostrerà come Meloni ha spaccato Parenzo in diretta. Parenzo, noto per le sue posizioni controverse, aveva sfidato Meloni a un confronto in tv, convinto di avere la meglio. Ma Meloni, con la sua esperienza e il suo carisma, ha risposto con precisione e arguzia, smontando le argomentazioni di Parenzo. La tensione era palpabile, con Parenzo che cercava di attaccare Meloni e con lei che rispondeva con fermezza, mostrando la sua intelligenza politica. Ecco il momento esatto dello scontro. Vedo che lei fa buone letture e questo mi fa piacere. Io faccio un'ottima lettura e al suo punto ne parliamo perché è molto divertente. Perché vede, David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari. Non vorrei usare questa discussione per farvi pubblicità, quindi lo farei e la ringrazio allora. Sennò sembrerebbe una marchetta che non vorrei. David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari, che è autobiografico. Perché in questo libro che lui usa per dire che noi ci inventiamo le cose, prende e manipola i post miei, nello specifico. Qui c'è un post manipolato dove Parenzo mette in bocca a me esattamente quello che ha detto lui adesso e cioè che io avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricollocamento non devono avere i fondi dalla UE, cosa che io non ho mai detto, sulla quale tra l'altro lui mi insulta, si figuri, è la cosa che lui ha appena proposto, se fermi no perché è divertente, la cosa che lui ha appena proposto, nel suo libro in cui falsifica i miei posti, la mette in bocca a me, è una cosa che io non ho mai scritto e che adesso sono in grado di dimostrare, ma non mette un mio post e poi mi insulta sulla parte che ha, ma non mette questo, che è esattamente quello che ha appena proposto, non posso, non voglio, non le rispondo nel merito perché non voglio usare la mia trasmissione, quella di te lente, per fare, quindi non si preoccupi, la voglio usare io perché siccome io possiedo questa diffamazione, è la faccia in tribunale allora, scusi, è il fatto che lei falsifici, ma la faccia in tribunale, il fatto che lei falsifici in posta della sottoscritta per poi insultare la parte da lei falsificata, siccome stabilisce anche seriamente la serietà delle sue argomentazioni, del suo modo di lavorare, è bene parlare, se vuole parlare del mio libro quando vuole io voglio parlare del mio libro, io voglio parlare della sua serietà, io voglio parlare della sua serietà, perché lei falsifica le dichiarazioni degli altri, insulta gli altri, la faccia in tribunale, e poi prende quelle dichiarazioni e me le viene a portare a me come se fosse una proposta, mi dispiace che lei sta usando la trasmissione di Televiso e mia per farmi pubblicità al libro, non volevo, io sto usando la trasmissione per denunciare bene, che ci sono dei giornalisti, ma qual è la parte che sarebbe apocrisa, come dare, penso che hanno arbitrariamente, lo faccia in tribunale, lo faccia in tribunale, qual è la parte che non c'è, mi ha correlato, ma non arriviamo, qual è la parte che non c'è, quale sarebbe la parte che non è nel suo posto, io faccio un post dicendo, Conte e Di Maio parlano come Renzi, due punti aperte virgolette, se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa, allora taglieremo i fondi all'UE, chiusa virgolette, e commento, ma la soluzione all'invasione in Italia non è far invadere l'intera Europa, eccetera, l'unica soluzione è il blocco navale, gli immigrati qui non devono arrivare. L'ho sempre detto. Parenzo prende questo post, lo manipola, lo riscrive, mette in bocca a me il fatto che io avrei detto, che io voglio, che se gli immigrati arrivano in Italia non saranno distribuiti, allora taglieremo i fondi all'UE, quindi lo mette in bocca a me, perché o non ha capito, o l'ha manipolata, e poi dice minacciare come fa la Meloni di tagliare i soldi che diamo all'UE è pura follia, cioè quello che ha proposto adesso il signore Parenzo, perché anche grazie a quei fondi, l'Europa, eccetera, 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 allora io segnalo che lei è uno che ha scritto un libro che si chiama I falsari, che è autobiografico, perché lei è esattamente questo, uno che falsifica le dichiarazioni italiane Non uso questa trasmissione per fatto personale, ma voglio dire, non uso questa trasmissione per replicare nel merito, per fatto personale, perché mi sembrerebbe ingiusto rispetto al nostro editore alla trasmissione, se lei vuole lo fa in tribunale, se lei vuole lo fa in tribunale Se ritrovo le parole non escluso che io lo faccia, e io non vedo l'ora, e io non vedo l'ora Va bene, usciamo da questa chieretta, perché la posizione è stata chiarita, la posizione è stata chiarita, è chiaro cosa dice Ravoni, chi vuole Rewind, domanda al contrario Non comprare i libri dei mistificatori Passiamo al tema di Fratelli d'Italia, cos'è questo partitore, cosa vuole fare, i suoi risultati, dove porta In servizio di Elena Tess, se lei pensa di essere stata un'istama, è ricorda L'unica cosa dimostrata è che lei falsifica quello che dico io, e io non falsifico niente, lo deve ancora dimostrare Talmente ha fatto un film con un libro che si chiama I falsari e non sapeva come giustificare il titolo di un libro su cui non ha argomentazioni, che l'ha dovuto falsificare, e sì, lo dirò in tribunale Lo dirà in tribunale In servizio di Elena Tess e di Fratelli d'Italia Ci divertiamo Come hai visto, Parenzo, visibilmente imbarazzato, è stato costretto a cedere davanti alla forza degli argomenti di Meloni, che ha dimostrato la sua superiorità Cosa ne pensi di questo scontro? Credi che Meloni abbia vinto la battaglia? Lascia un like per farci sapere la tua opinione, e iscriviti al canale per non perdere altri momenti di confronto politico Secondo te, questa vittoria di Meloni avrà conseguenze sul panorama politico italiano?